le amarezze dell'Eurolega il pallone che arriva splendidamente a Tamara Slay probabilmente siamo riusciti soltanto a farvi vedere la parte finale dell'azione con Slay a chiudere in maniera perfetta la lay-up da fare, palla persa per l'Olimpia è che la sua predisposizione a passare la palla ha fatto sì che perdesse l'opportunità di fare palleggiare anche il tiro e facesse infrazione vediamo se ci saranno ancora cambi difensivi il taglio di Fantoni per Rosselli che aspetta Slay c'è un'autostrada completamente aperta, la difesa dell'Olimpia e altra giocata la seconda consecutiva nel giro di pochi e seconda il dottore gioca conseguenzialmente agli altri dal gioco lui viene smarcato, non è lui che va a procurarsi i tiri, sempre la zona 2-3 Slay in penetrazione, che eleganza per il giocatore statunitense ci sono in campo i due migliori tiratori se infilano possono creare grossi problemi spazio alla zona e spazio ai tiri dall'arco dei 6,75m due consecutivi per la Reijer che continua a dominare vicino al ferro rimbalzo numero 28 per la squadra di Mazzon contro Mazzon